E' stato un grande successo la prima di Casanova al Teatro Gesualdo, Massimo Sorrentino, regista ma non solo di questo spettacolo che ha sorpreso anche i critici più esigenti. Ecco, dall'alto della tua esperienza di attore consumato e molto apprezzato in tutta Italia, che soddisfazione ti ha dato questo spettacolo? Innanzitutto mi ha dato la soddisfazione di poter mettere in scena uno spettacolo come io avevo in mente sin dall'inizio. Avevo un'idea ben precisa di come mettere su lo spettacolo, quindi l'allestimento intero, di comune accordo anche con lo scenografo, il grande Gennaro Valifuoco, che è uno scenografo validissimo e che ha lavorato con grossi artisti come Roberto De Simone. La soddisfazione anche di aver messo in scena, oltre a dei seri professionisti, amici che hanno preso parte a questo progetto, come Massimo Masiello e Lucia Palmentieri, ma tanti altri, anche dei giovanissimi della provincia dell'Irpinia, quasi tutti, che non avevano mai calcato le scene, per cui diciamo che il mio lavoro è stato apprezzato dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori, che sono venuti tantissimi da Napoli, da Roma, proprio per questo motivo. Hanno trovato che lo spettacolo aveva una sua dinamica, una sua omogeneità, malgrado ci fossero in scena tanti giovani con pochissima esperienza. Quindi questa è stata la più grande soddisfazione mia. Poi è chiaro che, diciamo, gli attestati di stima alla fine dello spettacolo e anche nei giorni seguenti mi hanno dato soddisfazione, però io per la mia esperienza so che poi in realtà giocare in casa è una cosa e quando si va fuori casa diventa un'altra cosa. Per cui noi, chiaramente, se nel futuro abbiamo intenzione di portare in giro lo spettacolo, dovremo chiaramente tener conto che il giudizio sarà molto più severo, per cui io sono pronto anche a questa sfida eventualmente. È chiaro che per il momento ci godiamo questa serata e questo successo di pubblico e di critica, però per il resto poi vedremo, è tutto da stabilire. Come avete cercato di personalizzare Casanova? Perché è uno spettacolo difficile, tra l'altro tu hai detto con tanti giovani sul palco, Casanova già interpretato, già è una commedia, un musical, uno spettacolo che ha riscosso grande successo anche con compagnie di professionisti. Voi cosa ci avete messo di più? No, ti spiego, in effetti Casanova è stato sempre rappresentato nelle biografie e rappresentato, diciamo, tutta più con dei film. L'operazione invece della commedia musicale è un'operazione tutta originale, nostra, che appartiene a noi, per cui questa è la vera novità. Poi, chiaramente, quello che noi abbiamo, io ho cercato di dare a questo Casanova, partendo da un Casanova classico, come tutti sappiamo, il classico libertino che ruba i cuori alle donne senza un minimo di scrupolo e quindi cibandosi, diciamo, del loro amore fino in fondo, in realtà poi questo Casanova incontra una donna e se ne innamora per la prima volta. Per cui diventa tutto un risvolto nuovo, diventa una storia intrecciata interessantissima ed è questo che probabilmente ha fatto sì che il pubblico restasse sulla sedia fino in fondo. Molti mi hanno detto che è la prima volta che fra tutti gli spettacoli, anche che abbiamo visto nella stagione teatrale del Gesualdo, che noi vediamo uno spettacolo fino in fondo aspettando di vedere qual è il finale. Grande lavoro anche nel Dietro le Quinte, come si dice in gergo, nel tuo campo, nel tuo mondo, Massimo Sorrentino, i titoli di code. Sì, in effetti io comunque devo ringraziare Tamara Torres Molina dell'Associazione Cuballet che ha curato le coreografie dello spettacolo. Chiaramente Mario Sibilia per le musiche originali e poi devo ringraziare anche e soprattutto Rosaria Librera che è stata una persona fondamentalissima per tutto quello che riguarda l'organizzazione dello spettacolo, dietro le quinte. Ringrazio anche per le acconciature Antonella che è l'acquafer di Atripalda, che è stata bravissima perché in pochi secondi curava tutte le acconciature. Per cui, ripeto, c'è stato uno staff di Riro alle Quinte e soprattutto di persone che nessuno conosceva e nessuno ha mai visto, ma che hanno fatto sì che lo spettacolo avesse una riuscita ottimale. Grazie